Maria Grazia ha voluto in questa booktote interpretare il tema dei mille fiori. È un tema che ritroviamo presente negli arazzi rinascimentali. Con questo tema ha voluto omaggiare nuovamente la grande passione che Messier Dior aveva per i fiori e i giardini. È una borsa completamente realizzata in rafia, con materiale naturale, lavorato all'uncinetto da sapienti mani di ricamatrici. Tutti questi elementi poi scomposti vengono uniti insieme sempre attraverso il ricamo all'uncinetto, quindi è una lavorazione completamente artigianale. Questa borsa all'interno ha una fodera di tessuto logato con il disegno iconico del brand. Quello che caratterizza la booktote è questa fascia centrale come se fosse un giardino fiorito grazie alla tridimensionalità da questi fiori che vengono appoggiati sul quadrante della borsa.